Borre, tipo questa che si è rotta, è vera del palco sacro. Adesso manca metà. La forma sappiamo anche di una specie anziché dell'altra, romandole nei boschi. E dentro ci sono magari le testoline delle topoline o le ervicole che ha mangiato, così sappiamo anche che vivono quelle specie. Lui ha 14 anni, che classe deve fare? Prima superiore. Deve rifare la terza media, me l'ha ambocciato l'anno scorso, l'unico in Italia con il covid bocciato, perché veniva sempre con noi nel bosco invece che a studiare. L'ha allevato fin da piccolo Luisa, è nato in Germania, in un allevamento, preso appena chiuso dall'uovo, è allevato in casa con le nostre figliole. A 3-4 anni giocavano già con i falchi, arrivavano sul pugno, li facevano volare. Poi lui giocava molto anche con un bel gattino, dopo un giorno non l'ho più visto. C'è ancora un bel gattino. Ce l'aveva regalato la Ines, dov'è? No, no, no. Non è vero. Ti vuoi aprire le ali, per favore? Aprire le ali? Proviamo a dirglielo. Apri le ali. Apri le ali. No, silenzio. Apri le ali. Uè! Voi ridete, ma fate vedere. Aspetta, mettiti bene. Apri le ali. No, alla sinistra. Solo la sinistra. Solo la sinistra. Oggi non è in vena. Che bravo! Allora, chi è che vuol dare il bacio?